Cambio di allenatore al Marino Mercato Subbiano, esce di scena Daniele Bronchi, arriva Andrea Benedetti. Sì, è così, diciamo, c'è stato questo avvicendamento in settimana, se ne è andato Mr. Bronchi. È un avvicendamento che, come in questi casi avviene, purtroppo diventa quasi dovuto, nel senso che dopo un periodo di risultati sotto le aspettative o negativi, per dare una svolta, per dare un segnale, si è necessaria, anche se a mal in cuore, ovviamente il cambio del mister e quindi l'arrivo di un mister bravo, preparato, come il mister Benedetti. Quindi l'aspettativa, soprattutto l'auspicio, è quello di trovare subito quell'entusiasmo, che ovviamente si perde nel momento in cui i risultati non ci sono, innescato proprio da un cambio, un cambio alla guida tecnica. La speranza è che, diciamo, da subito questo cambio possa generare un risultato positivo, che possa essere poi l'inizio di un percorso, perché Subbiano fondamentalmente è una squadra che può, ha nelle corde sicuramente tanta qualità e si aspetta di sbloccarsi dopo un periodo non troppo felice, periodo in cui obiettivamente si è fatto tanto, si è stati tanti eventi, tante situazioni, che abbiamo provato a governare all'interno ovviamente della Rosa e dello staff a disposizione. Dispiace vedere come in questo periodo qui con le persone si abbiano sfruttato proprio questa serie di risultati sportivi negativi per matizzare allenatore, giocatori, componenti della società. Ringrazio sempre i tifosi che invece non hanno fatto mai mancare il proprio apporto, però secondo me qualche sportivo, se lo vogliamo chiamare così, secondo me poteva fare di meglio.